Si sentiva Mozart. Le accadeva nell'intervallo tra la mattina e il doposcuola, quando si appisolava su un banco nell'aula della scuola di campagna, davanti alla finestra. Capitava all'insegnante di educazione musicale che allora si sentiva Mozart. Dapprima aveva una visione fuggitiva del grande musicista. Poi le sembrava che questi passasse gradualmente in lei e infine Mozart penetrava tutta la sua sostanza, come se diventasse lei. Perché? Commento. Perché l'ossessione è la soggezione di una persona a una potente forma pensiero. Succede che all'ossesso faccia piacere questa soggezione, perché esaudisce le sue aspirazioni. Ciò che la scienza chiama patologia deriva sempre da una causa spirituale.